da quando gerusalemme fu distrutta nel 70 dopo cristo dall'imperatore tito gli ebrei non hanno più uno stato e quindi vagano per l'europa in quella che è stata chiamata la diaspora la dispersione a gerusalemme dintorni ne rimangono pochissimi sotto i romani poi bizantini poi gli arabi poi crociati poi mamelucchi poi turchi ottomani infine gli inglesi tra l'ottocento e primi vent'anni del novecento l'europa è scossa da ondate antisemite che producono violenze stermini stragi i pogrom contro gli ebrei gli ebrei cosa fanno scappano soprattutto in america ma in piccola parte ritornano anche nella terra dei loro avi dove dopo la prima guerra mondiale i turchi sconfitti sono stati sostituiti dall'impero britannico dagli inglesi poi nel 33 hitler prende il potere in germania inizia a perseguitarli più pesantemente scappano 400 mila ebrei ma gli inglesi in palestina non li vogliono non li fanno arrivare impediscono loro di fuggire dai lager nazisti nel 47 gli inglesi se ne vanno e l'onu che cosa fa divide il territorio che adesso chiamiamo israele e stato palestinese che non è mai nato ma che si chiama cis giordania perché il territorio tra il fiume giordano e il mediterraneo in due stati in due stati lo stato ebraico avrà il 55 per cento dei territori li vivevano mezzo milioni di ebrei e mezzo milioni di arabi e lo stato arabo palestinese che avrà l'altro 45 per cento dove vivevano 730 mila arabi e 10 mila ebrei gerusalemme rimane neutrale zona franca sotto legida dell'onu israele organizza il suo stato nella sua parte mentre invece i palestinesi aizzati dagli stati arabi non riconoscono la risoluzione dell'onu e cominciano a combattere per cacciare gli ebrei dalla loro parte scioperi devastazione blitz armati massacri di ebrei e di palestinesi incrociati nel 48 14 maggio il presidente provvisorio di israele david ben gurion proclama la nascita dello stato ebraico non ha ancora finito di parlare e sei eserciti della lega araba libano egitto siria transgiordania iraki arabia saudita attaccano da ogni punto cardinale israele per spazzarlo via dalla faccia della terra israele è un esercito ancora male armato però riesce a resistere per qualche giorno passa la controffensiva respinge l'attacco sopravvive conquista addirittura dei territori alla fine si ritrova un terzo dei territori in più gaza che non aveva l'intero deserto del negev e la galilea occidentale poi c'è l'esodo dei palestinesi che in arabo si chiama nakba catastrofe se ne vanno buttati fuori dalle loro case o spaventati dai venti di guerra più di 700.000 profughi palestinesi che si rifugiano in giordania in transgiordania perché non si chiamava ancora giordania in ci giordania in libano in altri paesi arabi e lì si apre la piaga dei campi profughi dei palestinesi mentre in parallelo 600.000 ebrei lasciano gli stati arabi e fuggono in israele nessuno stato arabo accetta di firmare la pace con israele perché non lo riconoscono e quindi si fanno degli armistizi israele però lascia i territori occupati durante la guerra che potrebbero diventare il nuovo stato palestinese ma nemmeno stavolta lo diventano perché perché l'egitto occupa gaza e la transgiordania occupa la cisgiordania e diventa il regno di giordania insieme a gerusalemme est e per vent'anni i territori palestinesi restano occupati dai due paesi arabi nel 56 l'egitto ha un nuovo dittatore che si chiama nasser che nazionalizza il canale di suez per strangolare commercialmente israele